Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove per una manifestazione sono possibili disagi in uscita a Valdichiana provenendo da entrambe le direzioni. Possibili disagi anche in entrata a Firenze in entrambe le direzioni a causa di un incidente che vede coinvolto un mezzo pesante. In A12 per lavori è chiuso lo svincolo di Rosignano Marittimo in entrata in direzione Genova in uscita provenendo da Genova. Sulla FIPL per lavori stanotte e domani notte in orario 22.6 sarà chiuso il tratto tra Interporto Toscano Est e Colle Salvetti in direzione Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Grazie a tutti.